apriamo il pacco non so se si legge ma garmin forruller 955 del primo dicembre 1922 e sono 1 2 3 4 5 6 8 9 10 10 pellicole e poi ci sono i vari i vari sabbietti eccoci ragazzi stasera volevo provare a farvi vedere le nuove pellicole protettive per il garmin forruller 955 ordinate circa un mese e mezzo fa su aliexpress e arrivate un paio di giorni fa le pellicole protettive perché perché come vi ho fatto vedere in questo video qui i vetri si sono ne ho rotti due pochissimo tempo e per questo motivo ho messo sull'orologio questo super case in silicone protettivo a me non dispiace come ho detto nel video questo case anche se rende l'orologio veramente veramente molto molto grosso molto importante resta che con queste dimensioni diventa veramente veramente scomodo avere l'orologio al polso quando si mettono si tolgono maglioni giacche e via discorrendo allora circa un mese e mezzo fa ripeto ho ordinato su aliexpress queste pellicole in silicone oggi vanno di moda un po dappertutto queste pellicole in silicone anche sui anche soprattutto sui cellulari ragione per cui ho detto proviamo a vedere il costo e il risorio adesso non ricordo poi lo metto sotto in descrizione sia il link per l'acquisto che il costo e adesso vediamo di togliere il vetro protettivo il case di silicone e applichiamo una pellicola in silicone vediamo come va ciao Grazie a tutti. 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 Ok, allora, abbiamo montato una pellicola, malissimo. È totalmente piena di bolle. Non so se ci sia lo stesso funzionamento che c'è per queste pellicole di silicone dei cellulari, per cui c'è bisogno di qualche ora, di qualche giorno per far sì che queste bolle si rapprendano. Non so neanche io come dire, non so neanche io come dire, secondo me che spariscano. Vedremo nei prossimi giorni. Comunque diciamo che la pellicola è ben fatta, rimane perfettamente diciamo all'interno del quadrante. Adesso al di là di queste bolle mi sembra che la risposta del touch sia veramente ben fatta, ben gestibile, non so come dire, bella responsiva. E' chiaro che la dimensione dell'orologio cambia radicalmente rispetto a prima. Ripeto, a me non dispiace tantissimo con la super case in silicone, è comunque veramente molto molto scomodo. E quindi proviamo così, vediamo se dura, se vanno via le bolle e se dura, e niente, sicuramente molto meglio, molto più bello insomma. Quindi vediamo, spero che anche questo video vi sia piaciuto, ho messo gli occhiali perché altrimenti non sarei riuscito ad attaccare la pellicola. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, grazie per averlo visto fino a qui. Mettete un bel pollicione di su se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, a voi non costa assolutamente nulla, a me fa super piacere e mi stimola sempre di più a creare nuovi contenuti. Condividete il video e alla prossima. Ciao! Allora, dopo una notte, spero che si vieda, le bolle praticamente sono andate via quasi tutte. Ce n'è una lì in mezzo che probabilmente si riassorbirà nel giro di ancora di qualche ora. Quindi ottimo, vediamo se queste pellicole proteggono veramente come dovrebbero. Grazie!